Siamo in diretta con il campo di gioco, qui con noi la prima squadra. Eccoli qua che entrano in campo, i nostri giocatori, felici del secondo posto. Ecco Volpe, ecco tutti quanti, ecco il nostro capitano. Sì, ha detto di sì! Ha detto di sì! Stiamo seguendo la prima categoria che sta entrando in campo. Siamo in diretta live, oggi è il 12 maggio 2016, una parte della prima squadra sta entrando in campo. Ecco anche Muratore. Preschi del secondo posto, salteranno il primo turno per quanto riguarda i play-off. Un commento a questa stagione, Francesco. Tutto a posto, tutto a posto. Andata tutto bene. Cosa pensi di questi play-off? Andiamo a fare questi play-off, speriamo di vincere. Grande. Ecco in diretta, un bisogno intelligente. Andiamo! Andiamo! Che succede? Andiamo! Marco! Siamo in diretta, in diretta per tutta Italia. Buonasera Marco. Ciao, come va? Buonissimo. Comincio a avvertire i racconigi che stiamo arrivando. Perché i racconigi? I play-off sono loro. Secondo te? Sì, dai, sono i due di squadra di racconigi. Ma sono così pochi? No, qualcuno sta ancora lì. Perché siamo in diretta con tutta Italia e tutta Europa. No, è vero, guarda, siamo in diretta, guarda, in diretta. Porca miseria, allora qua bisogna anche... Ecco il vice allenatore che prepara il campo. E ci rubano i giocatori. Un commento su questa stagione? Devo darti un commento su questa stagione. Strabigliante. Perché nonostante tutti i pronostici abbiamo realizzato il massimo che potevamo. I pronostici? E nonostante le sfortune, chiamiamole le sfortune, che sappiamo con la parte da... Quei cinque... Abbiamo perso sette punti. L'abbiamo recuperati cinque. E se ci andava bene riuscivamo anche a recuperarne qualche punti. Pazienza. Ma noi ci battiamo fino alla fine. Perché in promozione ci vogliamo andare. Infatti, infatti. L'auguriamo a Vittoria Ivest. Forza a Ivest. Ma noto bene? Con noi un dirigente della Vittoria Ivest della prima squadra. Ecco arrivare anche altra gente. Che calcia subito il pallone, testone. Ciao, 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 ciao. E' il tredici. Guarda che gol che faccio Marco. Non calciare subito. Cristian, Marco Loli. Stanno arrivando in molti. Abbiamo sentito anche il parere di un dirigente. 12 maggio 2016. Stiamo assistendo all'allenamento della prima categoria del Vittoria Ivest. Benvenuto alla persona che è in diretta con noi. Stiamo assistendo alla gara, all'allenamento della prima categoria. Siamo qua al Vittoria Ivest, il 12 maggio, in diretta per te e per tutti quelli che la guarderanno poi in registrata. Siete in diretta a tutt'Italia e tutta Europa con la prima categoria del gruppo Vittoria Ivest. Appena iniziato in campo per... André, tagliata come piace a te. André, alla tedesca, sì? Oh, oddio! Luca Loli, è una bella pezza a lui. Che ho visto il suo posto. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh Sì! Sì! No! Si è che d'orozio! No! 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 Guarda che se pierde! No! No! La testa! La prenda la dai! Mamma mia che fai dietro! No! Alla spicciolata arrivano tutti! Numero 7! Zuni! Di testa ha fatto gol! Fai un gol! Di testa ha fatto gol! Fai un gol! No! Ho preso la di faccia piena! Zuni tagliato! Zuni! No! 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 Ringraziamo la prima categoria! No! No!